Vogliamo tutelare la città e vogliamo tutelare anche il significato di questa gara importante che vede un settore che è quello dei disabili che va tutelato. Anche queste ultime iniziative che confliggono con quello che poi è la prova documentale che sta emergendo adesso non fa bene alla città perché comunque si sta minnescando non solo ulteriori polemiche ma anche delle possibili azioni contro lo stesso comune. Oggi è arrivata una diffida, io penso che dovrebbe essere affrontato seriamente questo tipo di problema. Si è creato, ci sono delle responsabilità, non si rifugge dalla responsabilità. La si affronta, si parla con correttezza di quello che è accaduto e poi da lì si cerca soprattutto di dare dignità ad una vicenda che sta veramente scadendo. Rifacendosi al comunicato di ieri sera, il comune, il sindaco e l'assessore non hanno letto le carte che avete letto voi o danno un'interpretazione diversa? Io penso che non siano state lette perché a questo punto sono talmente evidenti le responsabilità sugli incartamenti che vengono offerti dallo stesso comune che ci si chiede addirittura ma se ci sia anche coerenza tra quello che è stato dichiarato all'interno di un consiglio. Lunedì in consiglio è stata data una versione, è stata data la versione che comunque vedeva un assessore da dati che ha assunto questa responsabilità. Oggi vediamo invece il sindaco che dice colpa dell'organizzatore. Insomma c'è qualcosa che non funziona ma le carte sono di facile comprensione. Allora o è successo qualcosa che non è ancora noto ma che non traspare dalla documentazione ma allora diciamolo o altrimenti è inutile che andiamo avanti a colpi di comunicati peraltro slegati da qualsivoglia prova rispetto a quello che sostengono gli organizzatori. Gli organizzatori hanno fatto vedere quelli che erano gli accordi, quelli che erano i verbali, quelli che erano i contratti e quelli che sono gli impegni dell'amministrazione. Io dall'altra parte non ho visto prove contrarie rispetto a questa ricostruzione. Oggi arriva addirittura la difida che dice, attenzione sindaco, che non solo vi chiediamo di non andare oltre nel dare interpretazioni che sono forvianti ma dall'altro lato non ci riteniamo lesi, quindi addirittura il rischio di un ulteriore danno.